Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione nata in sinergia tra RTV38 e il Consiglio regionale della Toscana. Consiglio regionale che ha tracciato il bilancio dei primi due anni di legislatura. Sono stati due anni complessi, difficili, contraddistinti prima dalla crisi legata alla pandemia da coronavirus, adesso dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Ha tracciato il bilancio l'ufficio di presidenza guidato dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha soffermato la propria attenzione in particolare su giovani e sulle iniziative dell'istituzione per cercare di mitigare le conseguenze del caro energia. A due anni esatti dall'insediamento dell'ufficio di presidenza il Consiglio regionale ha tracciato il bilancio dell'attività ad illustrare il rendiconto del Presidente Antonio Mazzeo che ha parlato di passato e presente. Quello di oggi ha affermato non vuole essere solo uno sguardo sul recente passato ma anche un rilancio al futuro su alcuni dei temi sui quali vogliamo focalizzare il nostro impegno. I nostri gonfalloni d'argento che sono il massimo riconoscimento sono andati proprio soprattutto a giovani, a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. Oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme, nel prossimo ufficio di presidenza in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di presidenza darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio, possa aiutarmi, coadjuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi e vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà a partire dal Comune di Firenze, nella prossima seduta dell'ufficio di presidenza, penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18 ogni lunedì e venerdì in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia che tocca davvero tante famiglie su cui noi sentiamo tutta la responsabilità. Chi i dipendenti che non lavoreranno in quei due giorni smart working avranno delle postazioni in cui potranno lavorare anche in presenza qui nel palazzo 2 o nel palazzo civico numero 4. Insomma è un modo per dare anche noi il nostro contributo in questa situazione. Sono stati due anni difficili e siamo ancora a lottare contro questa pandemia e soprattutto oggi c'è il problema del rincario dei costi energetici. Dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani, ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. Chiaramente il tema della sanità che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire che servano più soldi. Serve un'impostazione differente potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso ospedale facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana è stata presentata anche una mozione che chiede la revoca dell'incarico al noto fotografo Oliviero Toscani di curare il contest che mira a promuovere il turismo in Toscana attraverso dei volti femminili. Oliviero Toscani che nel recente passato ha usato parole estremamente pesanti nei confronti della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. La mozione è stata respinta ma Italia Viva ha votato insieme alle opposizioni. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, in merito alla richiesta di revoca dell'incarico ad Oliviero Toscani a seguito delle dichiarazioni rese sull'esito degli ultimi risultati elettorali. Contrari alla mozione i consiglieri del Partito Democratico hanno votato a favore tutti i gruppi di opposizione e il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. Noi abbiamo trovato quell'atto, un atto condizionato da un pregiudizio che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto, proprio per sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani, di separare le due parti. Noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni, ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente un atto strumentale. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone in primis di una donna deve essere da parte di tutti e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale e questo è molto grave quanto è successo, c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori che non possono essere appunto denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni è un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Ma non è un segnale di Italia Viva contro la maggioranza, è un segnale di Italia Viva a favore delle cose che sono giuste, di buon senso. L'incarico in questione è l'affidamento da parte della Regione del contest fotografico La Toscana di Toscani una campagna promozionale, si legge nella mozione, dedicata al turismo femminile in continuità con il progetto regionale Benvenute in Toscana e per tutte le altre attività di comunicazione istituzionale che la Regione realizzerà. Le dichiarazioni alle quali si fa riferimento sono quelle sulla Presidente di Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni e sugli elettori che hanno votato a favore del suo partito definiti come deficienti, di cui la richiesta di immediata revoca dell'incarico assegnato a Toscani nel mese di luglio. Per me è semplicemente il segnale di buon senso dimostrato dal collega Scaramelli di Italia Viva nel votare una mozione che chiedeva un qualcosa, io anzi sono intervenuto in aula per chiedere che venisse proprio tolto il riferimento alle offese che questo signore ha rivolto a Giorgia Meloni. Perché non è una questione politica di offesa a Giorgia Meloni, ma una persona che utilizza il termine ritardato come offesa, siccome ha un grandissimo rispetto per le persone ritardate mentalmente che hanno degli handicap e che secondo me valgono umanamente più di Oliverio Toscani, la Regione Toscana soltanto per quello avrebbe dovuto revocare l'incarico. E quindi credo che il collega Scaramelli abbia dimostrato buon senso nello sposare l'atto. Nessuna dietrologia politica. Sì, indubbiamente una mozione che ho condiviso soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo, ha delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo, ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto accaduto sul Ponte Morandi. Ecco, noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla Regione Toscana, né tanto a meno avere incarichi retribuiti. Si parla di 35 mila euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in Toscana. Ecco, francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili, ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza. Abbiamo votato a favore di questa nozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile, quando si intende fare la morale o dare l'esempio, dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese dalle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultati o vilipese sono le esponenti donne, ma io metto anche uomini, di altri partiti politici specialmente se sono rivolti dall'altra parte dell'arco parlamentare, ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine, della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione, che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai, dopo le sue frasi sul ponte di Genova dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia delle vittime, dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no, non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso, oggi, un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani, ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. La usate nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite, la usate nei confronti di Giorgia Meloni, la usate nei confronti di Enrico Letta, la usate nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare. Ecco, troviamo un naif che si permette di offendere tutte e tutti andando in televisione. Si conferma anche la consueta sensibilità del Consiglio regionale della Toscana nei confronti delle iniziative culturali. A Firenze nasce la scuola di cantautorato. Nasce a Firenze la nuova scuola di cantautorato Toscana. Il corso, presentato durante una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, inizierà a novembre e sarà ospitato nella sede di Media Lab. La conclusione è a giugno con la messa in scena di uno spettacolo insieme a tutti i partecipanti. È un settore nel quale si lavora, si crea lavoro, opportunità anche di creare prodotti che poi ricadono sulla cittadinanza, non soltanto perché vengono fruiti e adoperati e quindi creano circolazione economica, ma anche perché fanno aumentare il senso di appartenenza a un luogo. Sono prodotti che fanno stare meglio, dove c'è più musica si sta meglio. Anche di salute, secondo gli ultimi studi dell'OMS a cui stiamo lavorando con gli stati generali della cultura in Toscana. L'intento della scuola di cantautorato fiorentino non ha intenzione di forgiare nessuno, nessuno ha voglia di imprimere un imprinting alle persone che si presenteranno. Solo il nostro scopo è quello di cercare una gemma, una gemma dentro qualcuno che possa avere appunto il talento e un carisma nello scrivere. Coinvolgere persone che hanno talento e dargli una guida di preparazione tecnica e soprattutto guidarli appunto in una formazione, una formazione proprio artistica, visto che appunto l'Associazione Culturale Medialab è da 23 anni sul territorio come scuola di musica e quindi abbiamo deciso insieme ad altri personaggi molto importanti di creare finalmente un qualcosa che possa, e spero si possa dire, che inizia una scuola fiorentina del cantautorato che effettivamente non c'è mai stata. Ho appoggiato ben lieta, ben lietamente il progetto di Riccardo Azzurri e Fulvio Pasarli della scuola di cantautorato. Noi come associazione culturale presente sul territorio fiorentino al mare da 10 anni aiutiamo sempre i ragazzi, i giovani, i talenti e non solo, anche chiunque voglia ovviamente mettersi in gioco in qualsiasi tipo di attività, in questo caso il canto dare una mano a livello proprio di promozione e cercare poi un indomani, se riusciamo a trovare proprio la persona adatta, ad aprirgli la strada per avere anche un progetto lavorativo. E si chiude qui anche questo appuntamento con la voce del Consiglio. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.